Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Santissimo Crocifisso, tu perdoni coloro che ridono la tua missione di essere salvatore e ti confincono in croce come un malfattore. Donaci il tuo Spirito che ci renda capaci di perdonare chi ci offende e ci fa patire. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.